Meno 9.306 occupati rispetto al 2019 e l'andamento del lavoro nel 2020 in Abruzzo che registra una flessione dell'1,87%, comunque migliore se paragonata al meno 1,95 dell'Italia e al meno 2,03 del mezzogiorno. Estremamente consistente però il calo registrato nel quarto trimestre dello scorso anno, 9.344 occupati in meno, pari all'1,87%, dato peggiore sia della media nazionale 1,77% sia di quella del mezzogiorno, meno 0,79%. I numeri vengono forniti dalla CGL Abruzzo-Molise, secondo cui l'andamento occupazionale è strettamente legato a quello della pandemia e per favorire la ripresa del mercato del lavoro, dice la CGL, è fondamentale contrastare la diffusione del virus e procedere rapidamente con la campagna vaccinale. Tra le regioni del mezzogiorno peggiori dell'Abruzzo ci sono soltanto il Molise e la Sardegna. Dopo il crollo dell'occupazione nel primo trimestre del 2020, meno 22.000 unità, pari al 4,5%, nel secondo e terzo trimestre c'è stata una lieve ripresa, ma il quarto trimestre del 2020 ha visto un nuovo calo importante dell'occupazione. Alla luce di tutto ciò, la vera priorità della regione, deve essere la lotta al coronavirus soprattutto per garantire il diritto alla salute dei cittadini, ma anche per far ripartire al più presto l'economia e l'occupazione. E quindi sostanzialmente l'occupazione ha seguito il livello, il trend del livello dei contagi della nostra regione che poi di fatto hanno comportato delle restrizioni dal punto di vista delle attività economiche, degli spostamenti dei cittadini. Questo deve farci capire come la priorità debba essere per la regione Abruzzo quella della lotta al virus innanzitutto per salvare vita umane, per curare la salute dei cittadini, ma poi anche perché se vogliamo avere una crescita dell'occupazione dobbiamo necessariamente sconfiggere questa pandemia. Altro dato interessante riguarda il fatto che i posti andati in fumo riguardano soprattutto il lavoro femminile.